buonasera buon viaggio da firenze smart mauro ciutini in studio un chilometro di coda in a1 per un veicolo fermo tra calenzano il bivio a1 in direzione bologna passiamo alla firenze pisa livorno all'astra signa c'è una coda provenendo da firenze e tra scandici e lastra rallentamenti in direzione livorno veicolo fermo sulla 12 tra rosignano e colle salvetti in direzione livorno andiamo ai treni 19 297 firenze borgo san lorenzo è cancellato da firenze a punta sieve treno straordinario 18 979 da punta sieve a borgo partenza alle 19 50 lavori a firenze scarico di materiali da lunedì 2 dicembre orario 7 14 chiuso il tratto da via dello sprone a borgo san jacopo è tutto per il momento grazie a regione toscana città metropolitana comune di firenze grazie a tutti